Oggi tratto un argomento molto delicato che riguarda la dipendenza affettiva. Sto iniziando un progetto di ricerca, l'ho iniziato da poco, su questo argomento insieme ad un gruppo di colleghi e molte persone che mi iscrivono, che mi iscrivono nei vari gruppi, sottogruppi che ho dedicato a questo tema, nel quale ho un contatto più intenso con le persone che si identificano, si riconoscono di avere questo problema, ecco, in quei contesti lì molti mi iscrivono, mi danno tanti input estremamente utili proprio per fare dei piccoli approfondimenti. Uno di questi è il seguente, le persone mi iscrivono Sto uscendo dalla mia dipendenza affettiva perché la mia relazione con la mia persona tossica sta finendo. Ecco, questo è un tipo di messaggio che è molto, molto, molto particolare ed è importante analizzarlo insieme per capire meglio la dipendenza affettiva. Altre persone mi scrivono, mi comunicano Ah, ecco, io non penso più, ecco, devo smettere di pensare a lui, devo smettere di pensare a lui, oppure devo smettere di pensare a lei, quando il dipendente affettivo è un uomo. Ecco, altro messaggio molto importante, questi due messaggi sono fondamentali perché fanno capire un meccanismo psicologico che è tipico nella dipendenza affettiva, nell'affrontare questo tipo di problematiche, ma anche tipico negli ambienti della crescita personale, dove la persona ancora non ha capito che cosa significa evolversi e crescere e che noi dobbiamo affrontare meglio. Allora, prendi come riferimento una persona che ha un disturbo alimentare, ok? Magari una persona che soffre di anoressia nervosa. Una persona soffre di anoressia nervosa, poi ad un certo punto mangia e dice Ah, finalmente sono uscita fuori dall'anoressia nervosa. Ho sconfitto l'anoressia. Ed è una persona che magari corre 30 km al giorno. Perché? Perché dentro di sé sente ancora quel richiamo all'aspetto fisico, all'immagine corporea, al fatto che siccome ho mangiato quella fettina di pollo in più, allora devo smaltire quelle calorie, ok? Ecco, cioè il meccanismo che ha dentro è questo, però mangia di più e va a correre un po' troppo. Ecco, questo tipo di persona è una persona che non ha sconfitto l'anoressia nervosa. Perché? Perché l'anoressia nervosa non è nel cibo e non è nemmeno nel meccanismo compensativo della corsa. Non è quello. L'indice di massa corporea è il sintomo di un mindset che la persona con l'anoressia nervosa ha. Ovviamente quello è importante, perché sotto un certo livello hai dei grossi problemi o puoi averne dei grossi problemi. Ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è cambiare il mindset. Cioè, il cibo deve smettere di guidare la tua vita. La tua immagine corporea, per quanto importante, deve smettere di essere l'unico drive che guida le tue azioni. Nel momento in cui questo cessa, allora ecco che effettivamente puoi dire di aver sconfitto l'anoressia nervosa. Nella dipendenza affettiva, l'idea di dire non devo pensare a lui, non devo pensare a lei, significa che tu stai misurando la qualità della tua vita, l'aver superato questo problema, quando smetti di pensare a lui, quando smetti di pensare a lei. Cioè, lui, lei, ancora guidano, sono i drive della tua vita. Sto uscendo dalla mia dipendenza affettiva, finalmente l'ho lasciata alle spalle, perché ho chiuso la relazione con la mia partner tossica. Quindi, il motivo per cui tu avresti risolto la questione della dipendenza affettiva è perché non stai più con quella persona. Quindi il drive chi è? Quella persona. E questo è il meccanismo sbagliato che c'è in questo, cioè nella realtà dei fatti. Non è quello il problema, non è smettere di avere una relazione, di frequentare una persona o di pensare a qualcuno, non è questo che risolve. È un mindset interno, cioè quell'altro, l'altro, non deve più essere il drive delle tue scelte, delle tue decisioni, del tuo umore, del tuo benessere, dei tuoi pensieri, delle tue azioni quotidiane. Non deve più essere, drive, devi essere tu a scegliere liberamente le tue priorità. Quindi l'aspetto fondamentale da capire, poi qualcuno mi dirà, ma come si fa? Per favore, prima di capire come si fa, cerchiamo di accordarci su cosa si deve fare, su cosa dobbiamo lavorare. È come le persone che litigano. Litigano ma non si sono ben spiegate sul motivo del litigio. Quindi stanno litigando di niente, cioè quel litigio non arriverà a nessuna soluzione. Perché non arriverà a nessuna soluzione? Per il semplice fatto che non si sono accordate sull'oggetto del litigio. La prima cosa che devono fare è capire su cosa sono in disaccordo, cioè qual è il motivo per cui stanno litigando. Se non capiscono questo, hanno un problema davvero grave, perché quella discussione non porterà a niente. Quindi se vuoi che le tue azioni portino a qualcosa, a raggiungere un obiettivo, devi capire qual è l'obiettivo e devi capire il processo mentale, perché ti devi rendere conto di quando non attuando quel processo mentale tu sei sulla strada sbagliata. E quindi allora cosa devi fare? Devi assolutamente focalizzarti sul fatto che il drive non deve essere più l'altra persona. Quindi se tu misuri la tua indipendenza affettiva, dicendo indipendenza affettiva vuol dire non avere dipendenza affettiva, cioè questo è un altro aspetto che mi sono accorto di dover approfondire, ecco, la questione è che se tu davvero vuoi lavorare sulla tua indipendenza affettiva, cioè no dipendenza affettiva, superare la dipendenza affettiva, devi capire che non puoi misurare il tuo benessere sulla base di non pensare più a lui, non pensare più a lei, ho lasciato il mio partner tossico per cui finalmente ho risolto la mia dipendenza affettiva. Non è affatto vero. La dipendenza affettiva è una cosa che riguarda te, riguarda te, soltanto te, non riguarda qualcun altro, non riguarda il tuo partner o la tua partner, riguarda te. Sei tu che hai questa cosa e sei tu che la devi risolvere ed è una fortuna che stiano così le cose. Perché? Perché se non fosse una cosa che risolvi tu ma che dipende da qualcun altro, allora non ci potresti fare nulla tu, ma ci potrebbe fare qualcosa qualcun altro e quindi tu staresti meglio nel momento in cui qualcun altro decide che tu puoi stare meglio. Ecco, nella realtà dei fatti riguarda te e quindi sei tu che devi lavorare su te stesso, te stessa per risolverlo, è chiaro?